Adesso si scherza, ma il parlare della Russia allora, il parlare di un paese che ha fatto una rivoluzione, che c'era il re e che l'avevano ammazzato e che vendevano la terra insieme ai contadini, è un messaggio che ai giovani ti prende, capisci? Dopo è andata a finire come è andata a finire, ma il principio comunista come il principio cristiano sono due principi che non possono falire, l'umanità deve andare su quella strada lì se vuole sopravvivere, se no finiscono nella cenere. Detto questo è un messaggio che l'ho sempre detto anche con i preti, voi comunisti, comunisti sono famiglia cattolica, guarda famiglia cattolica, se voi per esempio aveste applicato il cristianesimo non c'era mica bisogno che noi andessimo nel partito comunista, lo facevate voi altri, un po' di giustizia, non si spiegano come mai da una famiglia cattolica che va alla messa, che ha battezzato i figli, che il papà va a cantare in chiesa, che ha costruito la chiesa di Santa Maria che l'avevano bruciato i tedeschi a sue spese e fatica e va nel partito comunista, perché ha lanciato questo messaggio di liberazione insomma, ecco per questo l'abbiamo e se no chi lo faceva, perché non ci pagava mica nessuno sotto 13 anni e 6 mesi senza marcha e senza mutua, quelle tessere lì se conti 13 anni e 6 mesi sono stati senza paga di nessuno, perché fortunatamente ero già ricco, perché a casa mia mangiavo, capisci? perché avevo da mangiare a casa, ma c'erano dei compagni che facevano la vita che facevo io, che avevano la moglie a servire o la risaia e avevano dei bambini a casa, ecco noi il partito comunista, l'abbiamo costruito così, altro che l'oro di dongo, capisci?